e beh a tutti ragazzi un nuovo episodio di marco dv oggi ma da tanto tempo da quasi due mesi o mesi che non faccio video e oggi andiamo su real ratti andiamo su esclusiva sono a livello sette perché l'ho rifatto il bagapo faccia la bugatti shiron sport che l'ho modificata ora facciamo eliminazione quindi riprovo è la campagna è la fórmula ma si sono anche con noi anche con me e poi 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 la shiron sport che dovrebbe essere la e poi e poi o scrivete su un commento che sono escasso ovvio che sono escasso perché perché o l'erroba che dov'è è 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 se non fa male perchè devi curvare guarda quando frame si alza 2 ah si si la modalità vuol dire che tipo chi è è ultimo è il countdown ma chi l'aveva visto difficile questa ma ma penso è la più difficile non 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 il prossimo vedo sarà di un altro un'altra macchina se volete no si è bloccato si piano circuito spa vediamo questo prova a tempo che qua no persone e vip questa macchina wow che bella l'argento dopo la la vedo sempre se la metto perchè intanto tipo il ma allora mi è andato tutta via dall'originale ma che aveva visto tanto no no ve la chiamate vieni qua settecenti cosa settecenti cosa settecenti cosa fortemente wow primo set primo mist trrrraaa eh no ma ma perché così poco qua è arrivato arrivato a 120 km ma che va così arriva questo è tutto il primo ad adesso l'ultima roba del video è modificare la mia bugatti ciro sport l'auto più andiamo sul primo andiamo su coppa del primo andiamo a personalizzare e faremo forte anche la partita dembro nera e il s tutto grassi sovvio oro cerchioni no cerchioni quelli originali caramella rozzo posso dire si sta ma dove ecco questo è questo è vero circa ecco quante bella si metto questa questa tutta la blu vediamo vela vedere no non sta tanto bene no 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 Ma io ti vrei 3 G almeno No, non li fate La curva mi sa che adesso Vado via Ci vediamo Come è il prossimo Video